6 mesi di preparazione, una nuova vita, un viaggio lungo, anzi lunghissimo. L'India, la Dak e il Karakoram, l'Himalaya e le sue vite infinite, una mountain bike e una competizione lunga 6 tappe, la gara di bici più alta del mondo. Un comico diventato atleta. Un comico diventato atleta. Un comico diventato atleta. Un comico diventato atleta Unio, un comico diventato atleta. Un comico diventato atleta. Un comico diventato atleta. Grazie a tutti.